Terzo classificato a Mario Kart Per DS raccontami un po' Questa volta al contrario delle precedenti Ho avuto un po' di sfiga come si dice Perché tu sei sempre davanti Che cosa ci fai terzo? Innanzitutto oggi è venuta tutta la comunità di NDZ Quindi la concorrenza era parecchia guerrita Sono felice per il ragazzo che ha vinto Che se lo merita Un bravissimo giocatore Terzo posto Almeno il secondo Purtroppo non si vuole tutta la vita Bisogna lasciare pure gli altri Bravissimo bisogna lasciare Andiamo a conoscere chi ti ha battuto Il secondo classificato Secondo pilota classificato Eccolo Sono Fabio da Asti Fabio ti conosciamo un po' Da un po' di tempo si Ho fatto qualche torneo qui da voi Gli altri erano andato meglio Questo però era più difficile Perché era più difficile? Perché erano presenti tutti i giocatori più forti di Mario Kart 7 Vuol dire che anche tu sei tra i giocatori più forti di Mario Kart 7 Sì diciamo che siamo tutti lì Ma sei timido Dillo sono uno dei più forti Sono uno dei più bravi Ecco meritato allora Sì Ma perché non primo? Perché non primo? Perché il giocatore che ha vinto è il più forte d'Italia Ed è anche uno dei più forti al mondo E la finale è stata tiratissima Poteva vincere chiunque Anche il quarto è stato molto forte E secondo mi va bene anche L'importante è quello Se poi te lo sei meritato Andiamo quindi a conoscere questo primo classificato fortissimo Sempre lui è fortissimo Eccolo in prima posizione Pole position Nicola Torre Allora Nicola Sei sempre fortissimo Come mi spieghi questo? Lo spiego dicendo che Libono è scarso Ma vabbè A parte questo La finale sarà divertente innanzitutto Mi hanno detto molto combattuta Sì combattutissima Siamo arrivati tutti vicinissimi di punteccio Quindi non è che io ho vinto o stravinto E gli altri hanno fatto schifo Però tu hai vinto eh Sì ho vinto Libono fa schifo Però a parte Libono se fai schifo Fai schifo Mi dispiace Dai facciamo un saluto a questo lì Al mio tre Uno Due Tre Ciao Ti aspettiamo Vieni al prossimo torneo a batterlo Non ce la farai mai